Dieci giornate ricche di ospiti e proiezioni che hanno riempito il cortile di Palazzo Mazzolari Mosca e la Sala del Teatro Sperimentale di Pesaro. La 26esima edizione dell'International Police Award Arts Festival, l'evento che celebra l'azione delle forze dell'ordine nel mondo del cinema, televisione, letteratura e musica, si è concluso ieri sera riscontrando una grande partecipazione di curiosi e di appassionati del mondo, dello spettacolo e della divisa. Un bel festival soprattutto perché riprendiamo il passo del periodo pre-covid, dunque ritorniamo alle giornate piene e intense con ospiti e messaggi di un certo livello. Abbiamo avuto tante persone che sono venute a trovarci e questo ci inorgoglisce perché i personaggi che hanno calcato il tappeto rosso del nostro festival sono di grandissimo valore. Non vorrei dimenticarne nessuno ma ieri c'era per esempio Gaetano Savatteri che ha parlato della sua Macari e in maniera molto amena, anche molto quasi comica, ci ha praticamente intrattenuto per un'oretta. E poi tante altre situazioni che si sono create durante la settimana, Toni Capuozzo con una bellissima e emozionante serata sulla guerra e soprattutto sul ricordo dell'assedio di Sarajevo. Nella settimana abbiamo avuto più di 20 ospiti, tutti di grandissimo livello. La serata conclusiva ha previsto la consegna del 26esimo premio Apoxio Meno, riconoscimento assegnato a sportivi e protagonisti della cultura italiana e internazionale, che attraverso la loro attività professionale hanno valorizzato le forze dell'ordine. Fregiati di questo premio Carlo Mari per la sezione arte, Gaetano Savatteri e Cinzia Tani per la letteratura, Marco Pontecorvo, Desireno Ferini, Alexis Sweet, Ricci Meta, Shefali Shah, Sergio Rubini e Francesco Acquaroli per la televisione, Marco Simon Puccioni e Parinaz Izadiar per il cinema, Gaetano Aronica per il teatro, Dodi Battaglia e Mauro Maur per la musica, Domenico Romano e Pietro Angelo Lobue per lo sport, Vittorio Brumotti per il giornalismo, Radio Esercito per il sociale. Nei giorni scorsi è stata premiata anche Liliana Segre, Enrico Franceschini e Sara Lucaroni invece per la letteratura. Premiata anche la notatrice Daniela Poggi come protagonista del corto Ritorno al presente, con regia di Max Nardari. Una nuova interpretazione dell'attrice che in 40 anni di carriera, fra teatro, cinema e televisione, ha saputo coniugare talento e impegno sociale. Il film analizza la dipendenza dai social network attraverso la storia di Palmira, un'attrice degli anni 90 che si sveglia dal coma nel 2020 e scopre una nuova realtà comunicativa. Non importa ciò che sei, ma ciò che mostri. Fai un post con il cane perché è a chiappa like. Sono alcune delle frasi che la storia restituisce a frasi che ci danno la misura di un presente ormai inevitabile.